Benvenuti su meteogiuliacci.it. Dopodomani giovedì 28 giugno, bel tempo su tutta l'Italia, con caldo in lento e graduale aumento per l'espansione verso le nostre regioni dell'anticiclone nordafricano. Anticiclone che probabilmente ci terrà compagnia fino a domenica. Vediamo l'immagine del satellite virtuale, solo per confermare il cielo sereno sulle nostre regioni per la presenza dell'anticiclone. Vediamo che tempo farà nella giornata di dopodomani. Al mattino bel tempo su tutta l'Italia, al pomeriggio i soliti addensamenti comuni, formi sulle zone alpine, soprattutto sul settore centro-orientale. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in lieve aumento, per lo più comprese tra 30 e 33 gradi, un po' su tutte le nostre regioni, ma potete vedere già qualche punta di 34 gradi sul bolognese, sul mantovano e sulle zone interne del centro. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.